Grazie a tutti. Abbiamo anche una videocamera anteriore. Si tratta di un modello molto prestante perché ha una CPU quad core a 1,5 GHz di frequenza e 1 o 2 GB di RAM. Sono 8 invece i GB a disposizione per archiviare i dati dell'utente. Naturalmente potranno essere poi ampliati con una scheda microSD. La notizia più bella, al di là delle caratteristiche tecniche che naturalmente sono molto accattivanti, essendo questo un padre di ultima generazione, è che arriverà prestissimo in Italia. Huawei ci ha detto già ad aprile con un prezzo molto molto invitante. Adesso abbiamo una forbice di prezzi, non un prezzo molto proprio preciso. Si tratta dai 3,99 e 4,99. Presumilmente potrebbe essere un 449 euro per questo modello. Guardiamo il 4.1.2 che naturalmente sarà poi aggiornato nel corso dell'anno. Altro punto da sottolineare, la batteria è da 24.050 mAh, quindi sicuramente non ci saranno problemi anche per gli utenti più smanettoni per arrivare a fine giornata. Con attività completa, pesa 198 grammi ed è spesso solo 9,9 millimetri. Con attività UMTS e HSPA. Insomma, non un modello proprio di punta, ma sicuramente farà la gioia di tutti quelli che vogliono un phablet e non vogliono svenarsi. Va bene, per questa anteprima è tutto, aspettiamo di vederlo in redazione. Alla prossima!